Inizieranno domani mattina alle 9.30 le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto nei giorni scorsi nel cantiere del Crescent di Salerno. Successivamente gli artificieri del 21esimo reggimento guastatori di Caserta faranno brillare la bomba nella cava del Cernichiara. Si tratta di una bomba incendiaria di fabbricazione inglese del peso di 500 kg circa, un ordigno però meno pericoloso di quelli ritrovati precedentemente nella stessa zona di Salerno. Non c'è stato dunque bisogno di fare evacuare i cittadini, nessun problema di sicurezza per loro e questo quanto è stato assicurato dagli organi istituzionali, dal prefetto Pantalone fino al sindaco di Salerno De Luca. Di sicuro crescono le polemiche innescate soprattutto dagli ecologisti che al momento della decisione di effettuare i lavori al Crescent, quindi già qualche anno fa, avevano denunciato la pericolosità degli interventi strutturali in una zona dove sarebbero stati rinvenuti, come poi successo, numerosi ordigni risalenti allo sbarco degli alleati al porto di Salerno. Intanto proseguono i problemi strutturali in pieno centro. Una buca profonda almeno 30 cm e larga altrettanto si è aperta sulla sede stradale in via Lungomare Colombo. La zona è stata recintata per evitare che automezzi, scooter ci finissero dentro. Adesso in via Lungomare Colombo c'è un restringimento della carreggiata. Non è la prima volta, purtroppo, che succede anche questo in pieno centro cittadino.